Sicuramente ci sono degli approfondimenti, comunque anche l'intenzione di rappresentare il lavoro che è stato anche svolto e che comunque è stato un lavoro sinergico di squadra e che sta portando a cercare di definire tanti aspetti sia che riguardano la parte delle iniziative che sono in corso di svolgimento, gli ultimi progetti di legge che comunque dovranno trovare presto applicazione l'impegno del Consiglio e della componente in particolare di Fratelli Italia per affrontare con la maggiore sollecitudine possibile le principali problematiche che sono sul tappeto. Nello specifico ci sono problematiche che attengono anche iniziative sulla sanità in particolare su delle risposte, delle richieste che vengono da alcune esigenze particolari. Ci sono dei progetti di legge e nello specifico c'è una richiesta di chiarimento rispetto alle persone stomizzate e incontinenti. Stiamo appunto esaminando questa iniziativa per cercare di dare delle risposte per esempio a questa problematica che non può più attendere.